Iniziamo con un video di tweener, meglio di così non potevamo iniziare la serata, let's go! Insultate in palestra perché è grassa, qualcosa non torna. Non voglio mai più mettere piede in quella palestra, a un certo punto mi sono accorta che c'era un gruppo di ragazzi di fronte a me, mi guardavano, parlavano fra di loro e ridevano, sono scura che guardavano me perché a parte che non c'era tanta gente. Ragazzi benvenuti in questo nuovo video in cui parleremo di questo. Bello bello Leo, ti ringrazio tanto. TikTok che ultimamente è diventato super virale in tutta Italia, in cui si vede questa ragazza raccontare degli insulti che ha ricevuto mentre si trovava in palestra. Tantissime persone ne stanno parlando e tantissime pagine hanno ripostato il suo video, addirittura dei giornali. E ovviamente questo video ha fatto anche la mia attenzione dato che per me da qualche anno a questa parte sono il CEO della glastrofobia. Raga ma non volete rimanere aggiornate su quello che succede nel mondo? Nel mondo? Vabbè, nel mondo. Il piccolo mondo italiano? Come no? Assolutamente sì! Non si tratta di questi casi, io sono sempre sul pezzo. Il video originale è stato pubblicato su TikTok e al momento ha poco meno di 8 milioni di views, ma se sommate a tutte le altre le varie reposte in altri social saranno almeno il doppio, o forse anche... Fa ridere come parla di una ragazza insultata in palestra e sta letteralmente dentro una palestra in un gioco. Ma chi vuole vedere una che piange da tweener poi? No, no! Vediamo! Piplo. In descrizione ha detto, vi dico sempre che non dobbiamo avere paura di reagire, ma a volte non ce la faccio neanche io, spero davvero di non avervi deluso. Quindi quello che faremo oggi sarà a vederci questo video in cui racconta bene quello che è successo, ma subito dopo non ci limiteremo a commentare i fatti, ma ho fatto un po' di ricerche sul profilo di questa ragazza e ho trovato un po' di cose interessanti. Mi sono visto anche video di altri influencer che ne parlano e diciamo che ho un'idea abbastanza distante. E vediamo, vediamo, voglio vedere cosa dice. Soprattutto per un messaggio in particolare che moltissime persone hanno capito di quel video, da come viene raccontato, e secondo me non c'è cosa più sbagliata, ma ci arriveremo tra un attimo. Direi che quindi come prima cosa ci guardiamo questo TikTok, ma mi raccomando, se siete nuovi assicuratevi di iscrivervi perché siamo vicinissimi ai 200.000. Sveglia, sveglia! Mi sono andata a correre, a un certo punto mi sono accorta che c'era un gruppo di ragazzi di fronte a me, mi guardavano, parlavano fra di loro e ridevano. Sono scura che guardavano me perché a parte che non c'era tanta gente, gonfiavano le guagge, facevano... Mi hanno detto tutta la vita, vai in palestra, dicono, poi ci vado ed è questo quello che succede. Mi fate veramente schifo, non mi sono neanche lavata, ho preso tutte le cose e me ne sono andata a casa perché non ci volevo più stare là. Cercherò un altro posto, sto a Napoli e mi serve una palestra che sia vicino alla metro 1 perché non guido. Però io adesso ho paura che succeda di nuovo. Ma è possibile che non sia un posto in cui posso stare tranquilla? Succede di ovunque, al suo mercato, all'università, qua sui social, nei commenti. Io vorrei stare solo due secondi a vivere la mia vita senza che nessuno mi prenda in giro. Ok, questo è racconti di... No, da una parte, raga, la capisco. Alla perfezione vorrei dire, ma cioè, non è vero. Però posso immaginare, ecco, meglio dire così. Posso immaginare come si potrebbe sentire. Però cazzarola, bisogna essere anche un po' duri nella vita. Cioè, è un problema, vai in palestra, ok, con l'obiettivo di dimagrire. E già qua, bravissima, perché non in tanti ci riescono. Posso capire che gli insulti fanno male. Però... Eh, dai. Cazzarola. Dai, un attimino, testa alta e il culo sodo. Cioè... Ci vuole un attimo di grinta! Quello che è successo? Ovviamente venire derisi in palestra. Sono appena impersonificata di Andrew Tate. In Andrew Tate, raga, come abbiamo visto i video ieri, no? Ecco, la depressione non esiste! La depressione non esiste! Come diceva lui. No, però, ci vuole un attimo di... Sapete, cioè... Devi diventare forte, se vuoi farcela. Così. La depressione per il proprio fisico è una cosa vergognosa. Soprattutto perché per fare una cosa di questo tipo devi essere doppiamente stupido. Le persone sono lì apposta per migliorare. Il video è sfogo, certo che ci sta! Non si può dare alla perfezione, mentre sta facendo le guide con l'autoscuola. Ciao, Dani! È lì apposta per migliorare. Quindi queste prese in giro sono ovviamente da condannare. E se fossi lei ne pariare con i proprietari di questa palestra... Giusto, giusto! Deve essere quei ragazzi a venire cacciati e non lei ad andarsene. Ma quello che è successo dopo la pubblicazione di questo video... Bisogna tirar fuori le palle, esatto! ...è che il 99% dei commenti erano di gente che la supportava e tutto quanto. Ma dopo un po' ho cominciato a notare delle risposte un po' diverse. Qualcuno che cominciava a sospettare qualcosa che il video fosse fake. Personalmente non sono convinto che sia finto per un semplice motivo, e cioè che non ci sono prove per dimostrarlo. Non eravamo presenti, quindi non vedo perché dovrei convincermi che sia tutta una storia inventata se non ci sono delle prove. Anche se, se dovesse esserlo, non mi stupirei così tanto. Non so se ti ricordate una storia esilerante di qualche anno fa di questo influencer gay che aveva fatto un video con dei lividi in faccia dicendo di aver subito un'aggressione omofoba e raccontando tutta una trama con... Allora, secondo me se hai determinati problemi non devi per forza fare un video su TikTok. Il problema è che al giorno d'oggi, ragazzi, è una cosa quasi obbligatoria, sembra. Cioè, ognuno si sfoga in qualche modo e ci sta, perché hai il modo di sfogarti, però... Cioè, è come se cercassero l'approvazione degli altri. Comunque, con questo video sfogo. Dipende dagli argomenti, comunque. Cioè, ci sta far notare determinate cose. Però... Non lo so, cazzarola. Cioè, la prima cosa che fai è fare un video su TikTok. Boh. Vabbè, guardiamo. Con dei ragazzi che l'avrebbero attaccato e insultato. Quando alla fine è stato smascherato e si era inventato tutto quanto. E il libido se l'era fatto da solo. Perché qualcuno dovrebbe fare una cosa di questo tipo? Perché, ovviamente, fingere e mostrarsi vittime di qualche persona è il modo migliore per diventare virali e farsi compatire. E quindi portare le persone a commentare supportandoti in modo che si sentano moralmente superiori. Ovviamente, non sto dicendo che questo sia il caso anche di questa ragazza. E infatti, per questo video partiremo dal presupposto che tutto ciò che racconta sia vero. O che, perlomeno, lei l'ha veramente percepito come tale. ha davvero percepito quelle risate come rivolta a lei. Perché sarebbe sbagliato a fare il contrario fino a prova contraria. Detto questo, mi sono guardato un po' il profilo di questa tizia ed è esattamente un attivista della Body Positive Media. Niente di nuovo, ma stessi identici contenuti che abbiamo visto mille volte in altri profili anche qui sul canale. Oltre a questo, però, le cose realmente interessanti sono altre. Per esempio, da questo TikTok ho scoperto che, a quanto pare, è vero, scelto, è vero. che ha portato quel video incredibilmente virale che ha portato milioni di persone nuove nel suo profilo ha fatto diverse storie in cui pubblicizzava dei prodotti. Non che ci sia niente di sbagliato, ovviamente, anche se devo dire che è una tempistica un po' particolare. Ma non voglio pensare male e pensare che sia una trovata di marketing come ha fatto... Però, raga, cioè, sembrava stesse piangendo sul serio. Cioè, all'inizio dicevo, ma dove sono le lacrime? Poi ho visto addirittura la cosa scendere dal naso, quindi sembrava come se stesse piangendo veramente. E' vero, adesso al giorno d'oggi sembra anche che ti viene da dubitare di qualsiasi persona. E qualsiasi cosa dica, però... Sembrava vero. E' un problema di tante persone che non riescono ad accettarsi da sole e quindi cercano l'approvazione degli altri che non è totalmente negativa come cosa. Vero? Potrebbe caricarla in qualche modo. Ma se non ti senti bene senza l'approvazione altrui è un problema. Sono d'accordo. Ogni tanto vado a riscrivere qualche cosa intelligente. Purtroppo non tutti hanno le palle o comunque lo stomaco per digerire o far scivolare gli insulti addosso. Infatti, non è una cosa facile per nulla. Ora come ora tutti si prendono la confidenza che non esiste? E posso capire, visto che anch'io ho avuto persone che mi parlavano indietro, ma per fortuna sono uno dei pochi che non gli frega un cazzo di quello che gli altri dicono. Ma più che altro, probabilmente non è vero che non ci frega un cazzo di quello che dicono gli altri, però riusciamo in qualche modo a farcelo scivolare addosso. Cioè, o eliminiamo quelle persone, o eliminiamo nel senso che le eliminiamo dalla nostra vita, non che le facciamo fuori. Ci allontaniamo semplicemente dalla cirica negativa, no? Cioè, cerchiamo di... Bisogna alimentarsi di persone positive, di cose belle. Poi ovviamente ci sono i momenti difficili, c'è sempre qualcuno che critica. Critica per qualsiasi cosa. Ovviamente poi magari lei viene criticata sempre, o spesso. Quindi dopo un po' non ce la fa più. Però, per come sono cresciuta io e per come sono oggi, tira fuori le palle. Questo è il mio pensiero. Ma non tutti sono in grado. Infatti, non tutti sono così forti. Capito? Vic spiegola l'FBI come le elimini. No, no, spendo un posto adesso, metti che mi stanno guardando. Mi commenti, ma, sarà stata solamente una coincidenza, ed erano già programmate quelle storie. Quello che però veramente ha colpito la mia attenzione nel suo profilo sono tutti gli altri video che pubblicano. Sì, facilissimi gli insulti nel web. A parte che non ho capito come mai abbia scritto grassa in quel modo, di sicuro non è una parola che devi mascherare per non farti bannare da Instagram, perché Instagram chiaramente non la considera una parolaccia. Quindi forse lei a farlo, o del suo follower, non saprei. Ma comunque, sì, sono d'accordo con lei, con questo reel. Vabbè, qua stai invagando troppo. Va da un medico per una visita o qualsiasi problema e il medico non è d'accordo con la stessa conclusione a cui è arrivata questa persona, nonostante lei non abbia mai studiato medicina e il suo massimo titolo di studio avrà scritto attivista dei labori positivi in biografia, è solo perché il medico è misogino e grassofobico. Non c'è altra spiegazione. Vabbè, dai. Abbiamo capito che il vittimismo va molto di moda, non è una novità. Quello che però è ancora più assurdo del suo profilo è l'enorme contrasto nelle opinioni e nei modi di fare tra quest'ultimo video diventato virale e il 99% degli altri contenuti. Nell'ultimo video ha pianto disperata perché dei ragazzi avevano riso e si era convinta che si estero ridendo di lei, ma solo qualche settimana prima pubblicava dei contenuti come questo. Ti è mai successo di sentirti così a disagio con il tuo corpo da non riuscire a indossare ciò che vorresti. Se è così, ho una cosa importantissima da dirti. Ma quanto tempo? Cosa penseranno gli altri di me se è scococciata così? Che sei buona, non ci sono altre opzioni. Ma poi anche se pensassero a qualcos'altro, noi vogliamo davvero ascoltare l'opinione di gente che si mette a giudicare le persone in base a come si restano. Quella gente sta così in basso che ha bisogno di sminimere gli altri per cercare di portarli al loro livello, ma con noi non ci riuscirà a vedere. Abbastanza assurdo il contrasto con questi due video. Quello è vero, però magari era... Magari era arrivata al suo limite, cazzo ne so. Cioè dai, ma seriamente, pensa se dovesse essere fake, tutto inventato. Ma raga, ma dove siamo finiti? Anche se non credo. Però fa ridere il fatto che abbiamo visto questo video e poi c'è l'altro dopo due settimane in cui letteralmente piange. Dite puzza di fake. A me, quando ero più piccolo, che ero un po' più cicciotello, capitava spesso. Principalmente venivo escluso dai gruppetti. Ora dirò una roba un po' così. Non so, tipo quando si parlava di ragazze, spesso non veniva neanche preso nella conversazione perché non venivi considerato come una persona in grado di piacere a qualcuno. Ora sono felicemente fidanzato, loro no. Sì, ma perché, ma raga, vengono presi in giro quelli magri, vengono presi in giro le persone alte. Più che da ragazzini. Espi lungone, sei un palo, quello che è l'altro. Quelli troppo bassi, quelli più grassi. Cioè, qualsiasi persona, per qualche motivo, nella propria vita, probabilmente è stata presa in giro. da altri, imbecilli. Capita, purtroppo. Nascondo il corpo. La gente vede semplicemente quello che tu metti in risalto con i vestiti che indossi. Ci sono vestite e altri ripeti vestiti tutto lì. Non è vero. Cioè, no. Ti dico di no. Secondo me, non è così. Vabbè, questo era un video in cui stava con questo costume strano, cos'è? Una specie di body, non lo so, sembra un costume da bagno. Non so che cazzo sia. Però, le ragazze, alle ragazze, vengono rotte i coglioni anche se sono vestite, come me, in questo preciso istante. Con la felpa, cappuccia, a prescindere. Chi vuole romperti il cazzo, lo farà a prescindere. Non importa come sei vestito. Non sembra neanche la stessa persona per le opinioni che esprimono. Questo video che abbiamo visto adesso potrebbe tranquillamente essere la risposta al primo video che ha fatto, dove invece piangeva disperata e qui si risponde che non si deve preoccupare dell'opinione degli altri. Eh, vero. E questo è solamente il primo esempio che ho trovato, perché ne ho visti anche molti altri nel video di Raponi e la quasi totalità degli altri video sul papiro Instagram di questa ragazza sono così e mandano questi messaggi. Cioè, la cosa che non capirò mai è che adesso è normale che qualcuno ti prenda in giro o qualcosa del genere. Non è normale, ma è all'ordine del giorno. Non è normale. Non dovrebbe succedere, però purtroppo succede. E con i social succede ancora di più. Sui social rompono il cazzo ancora di più per motivi futili. È una cosa... In realtà non c'è molto da capire. Il problema è che le persone non pensano prima di inviare il messaggio. Che siano piccoli, che siano grandi, che siano di qualsiasi età. Cioè, non è che non pensano. Probabilmente pensano anche al messaggio che devono scrivere. È che non ci ragionano e non supera. L'opinione non è stata richiesta, però perché lei esprimi lo stesso, insultando tra l'altro magari l'altra persona, solo perché magari ha un punto diverso, ha un punto di vista diverso dal tuo? Non lo so. I social da questo punto di vista fanno molto schifo, ragazzi. Tantissimo. Massaggi. Però vabbè, anche qui cosa volete che vi dica? Per qualche motivo magari in quella palestra sarà stata una situazione che l'ha colpita particolarmente e quindi reagite in questo modo. Mettiamola così. E sempre nel suo profilo ho notato un'altra cosa, anche questa è piuttosto incredibile. Ricordate che in questo caso tutto era successo perché si trovava in palestra e dei ragazzi che si trovavano lì si sono messi all'improvvisa a fare dei commenti e delle battute su di lei. Ora io in palestra ci vado, ne ho frequentate diverse, mi alleno. Quello che noto è che a parte quelli che sono in gruppo e parlano tra di loro delle loro questioni personali, gli altri sono lì per farsi i fatti loro e basta. Non ho mai visto qualcuno insultato o deriso. Vabbè, ma tu in ero ma che cazzo dici? Cioè, ma che ne sai cosa può succedere in qualsiasi tipo di palestra? Arriva un gruppetto di ragazzini imbecilli che non capiscono un cazzo e possono insultare senza problemi. Non è che se non l'hai visto tu vuol dire che non succede. No? E la testa esperienza l'ho vista condivisa da tantissime altre persone che si allenano. Però, di certo questo non toglie che se non è capitato a me o agli altri non ti può capitare di trovare un coglione che invece vuole farlo. Ok, il fatto però è... E allora perché lo dice? Perché ha detto sta frase e poi ha detto eh però, visto che non mi è successo vuol dire che... non è che vuol dire che non succede proprio. Cosa vuoi dire con questo? Che capitano tutte a sta ragazza. Infatti ho visto un altro video, stavolta però non piangeva ma era molto più tranquilla per fortuna, in cui racconto un'altra esperienza in cui in un luogo pubblico delle persone si sono messe lì e fare dei commenti inappropriati su di lei. Ascoltiamo. Vero, scettro. Vedete perché odio andare a fast food? Ti prendi il panino? Guardate, la chiattona che fa il McDonald's. Perché giustamente solo i chiattoni vanno i fast food, non è che ci sta... Cosa vuol dire chiatone? E pure tu qua dentro se ti pigli l'insalata ma che feve è il fast food e ti pigli l'insalata? Pensi che mi piace l'insalata? Ogni volta che... Io l'ho fatto più volte mi prendevo l'insalata al Mac, raga. Non ho mai capito sta gente che... E mi hanno... Mi prendevano per il culo per il fatto che andavo a prendermi l'insalata al Mac. Scusate però mi piaceva l'insalata che c'era là. E poi che cazzo vuoi? Mangiti il panino e non rompe i coglioni mi mangio l'insalata, no? Se ci sarà l'insalata al Mac ci sarà un motivo. Che vado sento qualcuno che commenta quello che ho preso. Cioè con l'obesità si perde il diritto di scegliere quello che si vuole. No, non con l'obesità. Rompi il cazzo anche le persone non obese la gente. Raga, anche qui io nei fast food ci vado ma non ho mai visto qualcuno che si metta a commentare o giudicare ad alta voce. Ma non... Io, allora spesso sono d'accordo con Twiner ma altre volte dice tante dico le cazzate e tipo adesso cosa ce ne frega di quello che capita a te? Nel senso non è una cosa che tu puoi dire eh, però io non l'ho mai visto ma che c'entra? Non è una cosa da dire. Ciò che ha preso è un completo estraneo. Magari sono strano io magari voi quando andate in un fast food vi mettete a osservare e analizzare quello che prendono altri clienti soprattutto se grassi e poi andate lì e li insultate o criticate per quello che hanno preso. A questo punto comincia a pensare che lei sia il main character di questo mondo e noi siamo solamente le personaggi secondari. È per questo che in tutti questi posti in cui va in cui normalmente la gente nemmeno ti caga le attira tutte le attenzioni di lei. Però devo dire che ho notato una differenza dopo aver ricevuto quei commenti in palestra ha detto che lei in quella palestra non ci avrebbe mai più messo piede. Dopo i commenti nei fast food ha solamente detto che li odia ma non che non ci avrebbe più messo piede. Ma a parte tutto ci tengo a dire un paio di cose molto serie che non mi sono piaciute delle reazioni delle persone a quel video. Ho letto molti commenti di persone che dicono ecco ho sempre saputo che la palestra è un posto tossico è per questo che non vado in palestra e non ci andrò mai e cose simili. Allora la colpa ha fatto bene a farlo ma quello che dicono questi commenti è semplicemente falso. Sì l'ambiente della palestra e del fitness ha moltissimi problemi oggettivamente ma non sono certo che se ti presenti e non sei in forma vieni insultato. Ok? Questo non succede. Questo perché innanzitutto nelle palestre commerciali dove vanno la maggior parte delle persone quelli con fisici da bodybuilder sono veramente pochissimi. La maggior parte ha un fisico in forma nella media e poi che ne sono tanti altri che non sono così in forma e sono lì apposta. Quindi se hai paura di andare perché sei troppo magro o troppo grasso e pensi di stonare e di essere l'unico in quelle condizioni sappi che ovviamente non è così. Molta gente si fa questo tipo di problema. Tantissimi si fanno questo tipo di problema ragazzi. Pensano di essere giudicati in palestra quando letteralmente in palestra non ti caga nessuno. Almeno io non ho mai avuto nessun tipo di disturbo in palestra. La gente si fa i cazzi proprio va ad allenarsi e basta. Poi se vai magari durante momenti più pieni ovviamente potrebbe essere che ci sarà il rischio di incontrare qualche testa di cazzo perché c'è più gente e quindi le probabilità aumentano. Ma normalmente la gente non rompe i coglioni. La gente si fa un sacco di problemi. Yo yo Bob molti si fanno questo problema perché c'è soprattutto nelle palestre commerciali dei paesini non lo so potrebbe esserci boh ma non lasciate che siano video di questo tipo a impedirvi di andare e allenarvi e soprattutto stare in salute. Poi si può incontrare ovunque anche in palestra ma parlo anche per mia esperienza personale dato che quando avevo cominciato ad allenarmi ero veramente tanto magro non mi è mai capitato di essere preso in giro in palestra mentre da altre parti si e anzi in palestra ho solamente ricevuto aiuto anche dai stranei. Quindi il consiglio che do a tutti che non sono mai stati in palestra perché frenati dalla paura del giudizio degli altri io consiglio di andare mentre per la ragazza che ha fatto il video non posso che augurarmi che non permetta a quei ragazzi di impedire di allenarsi in futuro e di andare in quella palestra e spero che non abbandoni perché io la darebbe solamente vinta in questo modo e soprattutto spero che non le capiti più che in qualunque posto lei vada tutti quanti commentino quello che fa lei. In ogni caso penso che sia tutto per questo video fatemi sapere la vostra opinione secondo me è un po' un video inutile ragazzi cioè quasi per tutto il video sembrava non ci credesse però poi alla fine spero che lei torni in palestra cioè che non smetta di andare non lo so bah I don't know I don't know anzi ci sono casi in cui trovi il tuo gym bro fai un sacco di amicizia poi quello che dico io è la palestra un posto dove vai per svagarti e non pensare a niente sì per sfogarti quelle robe lì bocca al lupo Leo con lo studio vabbè siamo rimasti da giornate su quello che è successo e non lo so che è successo che è successo per la giornata e non lo so che è successo è successo per la giornata